Costringevano i migranti a camminare lungo sentieri impervi fra i boschi al buio. Prima di raggiungere le auto al confine fra Slovenia e Croazia, ai bambini avrebbero somministrato anche sonniferi per zittirli, per non far sentire il loro pianto. A Trieste è stata smantellata una rete di trafficanti di uomini. 13 persone di origini kosovare e albanesi sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di associazione a delinquere transnazionale e favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Un'organizzazione criminale sulla quale le indagini della Procura di Trieste e della DDA locale, insieme alle polizie di Slovenia, Kosovo, Albania e Francia, erano cominciate nel novembre del 2021. Nelle immagini della polizia di Stato ecco i migranti nei boschi, accompagnati dai passeur dell'organizzazione che andavano a prenderli tra Croazia e Slovenia per portarli dentro ai confini dell'Unione Europea. Da lì, con una staffetta di auto, i clandestini venivano trasferiti fino a Trieste. L'ultimo passaggio della rotta migratoria balcanica dal costo di 200-250 euro a persona. A volte venivano effettuati più trasporti in una sola giornata. 32 gli episodi documentati dalla polizia con video intercettazioni. Da una conversazione captata nel corso dell'attraversamento a piedi dei sentieri boschivi, il passeur racconta all'organizzatore di essere stato costretto a picchiare i migranti che non volevano camminare. E non si fermano gli arrivi sulla rotta del Mediterraneo. Dalla mezzanotte sono 546 le persone approdate a Lampedusa, 243 quelle soccorse dalla Guardia Costiera durante il giorno. Erano stipate su sei barchini salpati dalla tunisina Sfax.